Una manifestazione sicuramente importante, questa qui è organizzata al club schermo di Montignano, Marzocca, Senigallia soprattutto perché poi la scherma rappresenta per le marche, ma credo per lo sport italiano un punto di eccellenza. Vedere tanti ragazzi che qui tirano di fiorete, di spada e che comunque si cimentano sulla scherma ma credo che sia fondamentale per far crescere quel movimento sportivo e soprattutto per far divertire i nostri giovani. C'è una bella società sana, c'è un'attività giovanile fiorente importante e credo che questo sia di buon auspicio per il proseguo non solo per il club schermo di Senigallia ma soprattutto per tutto il movimento schermistico italiano. Le marche grazie alla Giovanna Trillini, alla Vezzali ma anche alle nuove atlete che stanno venendo avanti alla di via Poco, alla di Francesco, stanno facendo grandi cose e sicuramente continueremo su questa strada anche grazie all'attività che qui come a Senigallia si sta portando avanti. Siamo qui nel palazzetto del tennis tavolo dove stiamo si sta svolgendo la diciottesima edizione del trofeo città di Senigallia, terzo memorial e oro polverari manifestazione riservata alle categorie giovanissimi e giovani, sia spada che fioretto manifestazione organizzata dal club schermo a Montignano con l'invito rivolto a società limitrofe delle marche dell'Umbia, della Toscana e dell'Abruzzo abbiamo avuto un'ottima risposta, abbiamo circa 115 atleti iscritti, si sta svolgendo una bellissima manifestazione, abbiamo la fortuna di avere anche come sponsor, quindi come sostegno impresa sempre di Telecom Italia che ha offerto dei gadget importanti e niente stiamo andando avanti così, grazie della collaborazione, arrivederci al prossimo anno. Ciao a tutti, ci troviamo qui a Senigallia per il diciottesimo trofeo città di Senigallia, una gara che ha visto la partecipazione di numerosi atleti della regione e la categoria che parte dai più piccoli fine giovani e che riguardava sia fioretto che spada. È stata un'ottima organizzazione, una bella edizione con tanti ragazzi felici e contenti di questa manifestazione. Grazie. 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 Grazie.